ragazzi prima del video mi scuso se nel video sentirete un audio abbastanza basso ciò appunto è causato da Sony Vegas perché non mi fa così cioè mi capita sempre ma ovviamente c'è sempre qualcosa che non va io con questo programma e non mi fa alzare l'audio del filmato quindi voi sentirete il video a un audio abbastanza basso sarà solo una piccola un piccolo avvertimento bella bello tutti pomerone e benvenuti in questo prossimo video stavolta noi ci siamo finalmente in un nuovo video dopo un bel po' di giorni che non li faccio ragazzi vi scuso ma ho avuto problemi con la scuola oggi sta pure male perché ho preso una storta a calcio quindi proprio non vado a scuola quindi tutte queste cose ho il pigiama e poi ho la maglietta ragazzi oggi vi farò non è un video gameplay non è un video vlog ma è un video per cioè non voglio neanche like in questo video perché vi farò vedere vi farò vedere un'applicazione che ho installato da un po' di tempo sul telefono e che sto utilizzando ora per cercare di portarvi nuovi contenuti sui giochi tipo Clash Royale e questi giochi dove bisogna shoppare ho visto che insomma faccio questo video perché vedo che i video di Clash Royale Clash Royale sono i vostri preferiti diciamo ragiongo sempre 12 l'ultimo 14 mi piace ragazzi che grande quando fate così comunque grazie del supporto siete fantastici bacione e quindi diciamo ho visto che vi piacciono molto questi sì questa serie mi piace molto di Clash Royale e quindi ragazzi innanzitutto continuate a lasciare i like anche lì perché se arriviamo a 20 like è tanta roba e comunque diciamo io vorrei fare molti più spacchettamenti quindi per fare ciò ho bisogno delle gemme le gemme ragazzi non è che posso spendere 100 euro sul gioco io piano piano sto raccumulando un po' di soldi se volete nuovi contenuti su Clash Royale ma soprattutto spacchettamenti ora vi dico che cosa dovete fare quindi niente dopo questa diciamo come faccio sempre l'introduzione ci vediamo subito al video quindi niente ora ci vediamo lì ecco ragazzi siamo sull'applicazione con cui io faccio gemme allora vi devo dire che i pack opening che avete visto precedentemente su Clash Royale sono console di veri quindi ragazzi ho sempre diciamo mi è sempre piaciuto fare console di veri però raga ho scoperto questa applicazione che vedete ora non mette manco a fuoco è AppNana ragazzi innanzitutto vi faccio una breve introduzione di AppNana AppNana è un'applicazione che grazie a dei punti che si ottengono scaricando ad esempio non ho più offerte perché le ho tutte utilizzate grazie a delle offerte ragazzi potrete appunto fare dei punti e poi trasformarli una volta raggiunto un determinato una determinata cifra di punti potete trasformarli in soldi per Amazon per iTunes per Steam ma quello che interessa a noi per le gemme è Paypal ragazzi Paypal è diciamo il insomma il metodo con cui cioè la carta di credito con cui io spendo soldi sui giochini ad esempio per il showyale ma non è solo per il showyale tipo se volete qualcosa su Amazon degli sconti potrete fare dei punti per avere dei buoni sconti su Amazon comunque bando alle ciance passiamo subito al sodo voi inserite il mio codice che è questo che vi lascerò in descrizione che è tutto minuscolo T 15779 554 è il mio codice invito voi lo inserite qui sotto il nanas mettete il codice invito e ragazzi vi darà sia dei punti nanas a voi sia dei punti nanas a me però aspettate ragazzi prima di inserire il codice amico dovete almeno aver raggiunto i 15.000 nanas quindi ho 25.500 e ho già inserito un codice quindi io ve lo ripeto voi vi piace molto il royale vi piacciono soprattutto i spacchettamenti ma tutto youtube se volete che vi porti più frequentemente spacchettamenti e con più gemme raga fate tutti 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 quelli del mio canale inserite arrivata a 15.000 nanas e inserite il mio codice inseritelo e probabilmente voi lo inserite vi da 2500 nanas a voi e 2500 a me se raggiungiamo gli inviti necessari cioè se tipo voi 5 di voi mi invitano io posso 5 di voi metterò il mio codice io posso rimettere un codice vostro quindi voi lasciate nei commenti il vostro codice di app nana però se alcuni non lo hanno ora vi farò vedere come andare a scaricare l'applicazione ok ragazzi una volta andati voi andate nel play store scrivete app app nana una volta digitato app risolta ho una condizione un po' di merda quindi ci morrà un pochino prima di ritrovare perché ho una condizione raga schifosa app nana buoni regalo gratuiti apprendete voi scaricate app nana vi faccio vedere come potete vedere ahia mi sono fatto malissimo installate come installate una qualsiasi applicazione installate all'inizio vi dirà di accedere voi mettete email e password le inventate o se no perché vi darà dei nanas in più insomma ragazzi fate manualmente scaricate vi faccio vedere perché noi una volta entrati su app nana questo free gift card rewards non so che cazzo vuol dire però vabbè cioè free sarebbe insomma fare i soldi gratuitamente però non è così facile e ora vi spiegherò cioè vi dirò il perché voi qui ragazzi saranno tutte le offerte voi installate delle applicazioni ci giocate per un minutino un minuto una volta superato passato quel minutino ragazzi scusate per la sedia una volta passato quel minutino avrete i nanas ehm otterrete nanas perché appunto avete scaricato e giocato a quell'applicazione e fino a qui ragazzi ci siamo tutti quindi una volta arrivata a 15 ubai strike questa qui me la scarico subito ragazzi andiamo a installare installa l'app apri gioco a livello 6 per guadagnare nanas ovviamente ora noi vi faccio vedere in diretta come si fa vi andrà sul link in questo caso è api.wobi.com e poi dovete andare apri file con play store aptoid noi andiamo sul play store e ci dirà ad esempio un gioco questo qui mi fa ottenere la bellezza di 2700 nanas quindi noi andiamo ad installare mobile strike io mi sa che avevo già il gioco ero già a livello 6 perché per altri motivi quindi ora in teoria io avrei già ricevuti i punti con questo gioco però forse me le fa me le da altri ora lui installerà e praticamente dopo giocandoci un pochino mi darà i nanas quindi avete capito super gioco ora non sto a vedere perché ci mette un sacco non sto a dirvi come si fa insomma a fare tutta la procedura comunque mi raccomando inserite il mio codice perché non solo scusate non vi ho detto della mia faccina non solo ci guadagno ci guadagno io perché rega aia dolore malissimo ho visto a voi piace davvero davvero un sacco royale e questo non lo mette in dubbio nessuno quindi io visto che vi piace royale voglio portarvi la cosa fondamentale che vi portano tutti i youtuber ovvero lo spacchettamento delle ceste ora pure con il nuovo aggiornamento ci sono molti più epiche quindi alla fine anno mi porto un mega cesto 50 euro se riesco a fare i soldi con l'appnana quindi avete capito vi riassumo tuttora perché questo video è importante che voi capiate queste cose perché non solo ci guadagno io perché 2500 nanas vanno a me ma ci guadagate pure voi perché vi da anche a voi 2500 nanapoints quindi rega che dire voi all'inizio installate appnana vi chiederà di mettere meglio il password se non l'avete insomma basta scrivere due rigliette eccetera eccetera comunque email e la password anche inventati credo si possa mettere poi una volta fatto ciò fatelo perché innanzitutto io vi porto più contenuti perché uno dopo sicuramente si aventerà perché non porti tanto royal perché rega vi posso fare anche video di scalata quindi scrivetevi nei commenti se voi faccio la scalata roto su arena 6 torna perché ce ne tornerò spero una volta e vabbè a parte questo chiudiamo piccola parola su crash royal perché non c'entra fatelo cioè se avete appena fatelo perché ci guadagniate voi ci guadagno io quindi a voi piace quindi cioè è un ci guadagniamo tutti perché alla fine ci guadagno voi e ci guadagno io quindi inserite il mio codice vi lo faccio rivedere vi lascerò anche in descrizione quindi guardatelo bene il mio codice invito è questo qui questo qui in alto il tuo codice invito in verde T in tutto il mio score T 15779555 e 4 questo è il mio codice invito quindi voi inseritelo dovete essere per inserire vi chiederà di avere 15.000 danas io le ho qui ragazzi le dovete avere solamente voi e tutte andiamo d'accordo quindi si può fare mi raccomando voglio vedere i codici che mi arrivano poi se voi volete inserire altrimenti ragazzi non le volete comunque spero che le volete perché anche avete a gusto spacchettare non lo so comunque e vi dico che ci guadagniamo tutti e due e ve lo ripeto quindi ricapitolando scarichi metti l'email password e ti darà un po' di nanas in più ogni giorno che rientri guardate qui in alto ottieni 400 nanas ogni giorno in cui ritorni ed è vero una cosa incredibile perché in un anno se ti conti tutte le volte che rientri fai 7 euro di gemme ci fa una magica al cesto così a buffo in arena 5 4 comunque è buono quindi che dire io sto cercando di fare più punti possibili però costano un sacco di punti cercherò quando arrivano almeno a 5 codici almeno io posso mettere un codice che mi dà un sacco di nanas e dopo minchia direi proprio minchia quindi mi raccomando dopo installate applicazioni come ho fatto io giocateci ottenete dei punti qualche volta qua sotto in basso vi dirà nanas a caso 100 nanas teppici ok e ti dà 100 nanas così a caso e niente dopo installate l'applicazione è tutto così invitati gli amici che dire pubblicate un posto su instagram ad esempio io pubblico questo copia share ecco grande michael ora gli manderemo questo qui e una volta tornati su app nanan dopo un pochino riceveremo 5 eccoli avete ricevuto avete visto raga avete ricevuto 5 nanas quindi assolutamente arrivano c'è alcuni che fanno il ritardo però raga state sicuri che vi arriveranno quindi per me per questo video è tutto spero di avervi fatto capire se non avete capito vi farò un altro video non ho capito comunque ci sono dei tutorial come utilizzare app nana se tutto ciò se volete nuovi contenuti io raga sono felicissimo di portarvi non mi manca niente per registrare quindi se volete nuovi contenuti nuove serie su crash royale anche su crash su crash of friends che non ci gioco più però non so se volete spacchettamenti royale ditemelo nei commenti insomma inserite il mio codice una volta arrivati e 15.000 quindi io spero di essere abbastanza chiaro con voi io vi lascio vi invito a lasciare bel pollicione in su e niente ragazzi qua la torna è tutto noi ci vediamo in un prossimo video come necessita reggaeton dale sigue bailando mami no pare acercate a mi pantalón dale vamos a pegarnos como animales